Mi raccomando, ci servite, ci date tanta forza, venite domenica a Cercola a supportarci. Io sono arrivata a gennaio e la differenza che vedo adesso, la squadra è molto più consapevole, e questo si vede appunto dalle nove vittorie di fila che abbiamo fatto. Penso questo sia il nostro punto di forza in questo momento, oltre che ovviamente tecnicamente, tatticamente, questo è un valore che non è mai stato messo in discussione. Sicuramente il fatto che loro abbiano perso domenica scorsa non ci agevola, perché saranno appunto pronte sul pezzo, perché non vorranno ripetere la sconfitta, visto che anche questo campionato hanno perso pochissime partite. Noi dobbiamo essere brave appunto a gestire la partita, a concentrarci in realtà solo su di noi, su quello che vogliamo fare, siccome l'abbiamo preparata e come vogliamo andare a prenderci questi tre punti, che sono poi quelli fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo.